Allora, andiamo un attimo con ordine, facciamo le cose come vanno fatte. Innanzitutto ciao, grazie, buona domenica, buongiorno a tutti, state bene? Allora, cerchiamo di riposarci, di ricaricare le batterie fino a questa sera, quando poi ci troveremo qui alle 20.30 per fare insieme la solita live reaction su Twitch, il post partita su YouTube e poi ci saranno le pagelle, ci sarà la live reaction ridetata, magari qualche altro contenuto di ragionamento e approfondimento e magari un'analisi della partita, anche se, non so se l'avete notato, ma immagino di sì, da quando c'è stata la penalizzazione, quindi da due o tre mesi, gli analisi post partita ne faccio poco, solitamente faccio degli analisi pre partita, perché credo che il tifoso della Juve oggi abbia poca volontà di parlare di calcio giocato per quanto riguarda la Serie A, perché ovviamente si sente, tra virgolette, privato della gioia della competizione, come dovrebbe essere in uno sport, perché quella penalizzazione in mezzo al campionato ha fatto male, malissimo, alla Juventus, alla competizione vera e propria italiana, e ormai se ne sono resi conto tutti, anche altre squadre ora parlano di campionato falsato per via delle penalizzazioni all'interno della stagione, ovviamente quando fa più comodo e quindi tradotto quando poi i punti sono stati restituiti alla Juventus, però bene o male tutti sono d'accordo sul fatto che la competizione quest'anno è stata alterata con quella penalizzazione di 15 punti, e fa strano tra l'altro che Allegri invece dica il momento più duro è oggi, non quando ci hanno dato i 15 punti, e qui bisognerebbe approfondire, bisognerebbe capire che cosa intendesse, bisognerebbe capire a che cosa si riferiva, con chi ce l'aveva magari, perché quella frase del Brocco Granitico è una frase che lascia spazio a diverse interpretazioni, e proprio qui mi aggancio a quello che è stato il video di ieri, sarò anche qui molto onesto, quando ho registrato un'ora e 0,5 di video, dopo che ho premuto il tasto stop, mi sono messo le mani nei capelli e mi sono detto, vabbè, ma secondo te, ma chi lo guarda? Invece il video, ve lo voglio dire, in tempo reale, il video è andato non bene, di più, di più, siamo oltre, anzi intorno alle 38.000 visualizzazioni di un video di un'ora e 5, 38.000 visualizzazioni di un video di un'ora e 5, e mi sono ritrovato nei commenti tantissime persone che hanno scritto pure quella sorta di frasetta, di parolina magica, che avevo chiesto di scrivere qualora se fossero arrivati effettivamente alla fine del video, quindi siete dei matti, io di questa cosa vi devo ringraziare, anche perché mi sono letto tutti i commenti, sono stati pieni di spunti di riflessione, e voglio portarvene anche uno oggi per cercare di completare un attimo il ragionamento, e apro, chiudo parentesi, ieri poi tra l'altro su numero di ESA ho pure pubblicato un articolo, quindi se volete andarvelo a leggere sull'applicazione trovate un articolo proprio che parla bene o male del momento storico della Juventus e di quella che è secondo me la posizione di Massimiliano Allegri al momento, anche ovviamente riferimento alla prossima stagione. Qualcuno mi ha detto, ma quando mai hai sentito un allenatore che dice ho fallito? E questa è una domanda secondo me molto interessante, intelligente e stimolante, come diceva ieri Allegri, stimolante, mi stimola, perché effettivamente l'allenatore solitamente tende quasi sempre a difendere il suo lavoro. Mi vengono in mente i vari Mazzarri, Inzaghi, Sarri, che sono sempre stati allenatori etichettati come pieni di scuse, no? Si diceva sempre le scuse di Mazzarri, le scuse di Inzaghi, le scuse di Sarri, quindi mi vengono in mente questi allenatori che difficilmente parlano in maniera negativa di quello che fanno loro, delle due un po' quello che avviene intorno. Ecco, la linea strategica comunicativa di Allegri, a maggior ragione in questa stagione, sta andando in quella direzione lì. Una volta, una volta, a ricordi, poi magari ce ne sono, anzi sicuramente ce ne sono stati altri, ma che mi ricordo io così, che mi viene in mente, una volta un allenatore che in una conferenza stampa disse, i risultati sono opera mia, i risultati erano negativi in quel momento, in quel periodo, tutto quello che sta accadendo alla Juventus è colpa mia, mi assumo le responsabilità, lasciate i giocatori fuori. Stiamo parlando di un Andrea Pirlo, al termine della stagione in cui appunto ha allenato la Juventus, in un momento in cui appunto le cose non stavano andando bene, ricordo che si parlava già di cambio in panchina, io stesso mi ero esposto dicendo che avrei cambiato allenatore l'anno prossimo, ma di fronte a quelle parole lì, ecco cosa fai? Ti alzi in piedi dalla sedia, fai un applauso e dici almeno fai, tra virgolette, da scudo umano per proteggere i calciatori e ti assumi le responsabilità per capirlo, comunque poi quella stagione la finisce con due vittorie e lì deve prendersi dei meriti per quelle due vittorie, se non altro sono gli ultimi due trofei della storia della Juventus arrivati a questo punto, però come Pirlo si era preso i meriti, Pirlo si era preso pure le colpe, secondo me questa è una cosa assolutamente da galantuomio, è una cosa di un'educazione rara davvero nel mondo del calcio, perché effettivamente quando mai un allenatore si è preso le colpe io sono d'accordo, effettivamente standoci qui a pensare a me viene in mente Pirlo e pochi altri, sarà che seguo tanto le conferenze stampa della Juve, poi quelle degli altri tecnici, però effettivamente prendersi le colpe è più facile dire, è l'episodio, è l'arbitro, è il giocatore, è l'errore, è vero, è vero, sono d'accordo, però dall'altra parte dico, perché qualcuno poi mi ha detto, la domanda della Della Valle era inutile, inopportuna, ecco io invece qua non sono d'accordo, io sono molto d'accordo, lo dicevo anche nel video ieri, che Fabiana potesse alzare la mano e dire guardi il primo articolo l'ho firmato io, meno io, probabilmente in quella situazione l'avrei fatto, perché se ho firmato lo scoop, come dicevamo prima, se mi prendo il merito dello scoop, poi mi prendo anche il merito di rispondere di questa cosa, ieri Allegra ha proprio fatto l'appello per far venire fuori chi aveva firmato, Fabiana è stata la prima, ha fatto una firmata condivisa con un altro collega della Gazzetta, però tutti gli altri giornalisti poi hanno riportato questa cosa in seguito a conferme, quindi significa che verosimilmente la cosa è avvenuta, a meno che tutti i giornalisti non abbiano preso un granchio con le loro fonti, però si va in quella direzione lì, Allegri faceva un po' il finto tonto, io gli dicevo ha negato, qualcuno anche qua mi ha detto, ma Allegri non ha negato, Allegri voleva far venire fuori i giornalisti che avevano scritto la notizia, ed effettivamente, pensandoci meglio, Allegri ha fatto il finto tonto, dicendo perché? Cos'è successo? Perché chi ha scritto la notizia? Non ha mai detto non è successo, quindi si va nella direzione della cosa che sia effettivamente accaduta, ma con Allegri che voleva invece avere un dibattito all'interno della conferenza con questi giornalisti, quindi forse, non lo so, o Fabiana l'aveva letta meglio di me, o semplicemente Fabiana se n'è fregata per linee editoriali, o semplicemente Fabiana come penso che sia a questo punto, dato che ho sentito anche la sua opinione sul suo canale YouTube, ho visto che è andata a Sport Italia, ho letto quello che ha detto, semplicemente Fabiana dice, io sì ho riportato la notizia, però l'ho firmata anche a tanti altri, ecco io qua invece dico, per come sono fatto io, avrei alzato la manina dicendo, mister, io ho firmato il pezzo, ho fatto questa ricostruzione, se è così, se non è così, mi dica lei cosa è caduto, perché poi Allegri tende sempre a stemperare le tensioni dicendo, ma no, ma non è successo, quindi secondo me ad Allegri questa cosa ha dato molto fastidio, e secondo me si spiega anche il nervosismo dietro alla domanda di Fabiana, perché ripeto, secondo me la domanda di Fabiana, come sarebbe soddisfatto l'allenatore della Juventus al termine della stagione? Non era maliziosa, a maggior ragione si è messa dentro un contesto in cui appunto l'allenatore non dice mai ho sbagliato, quindi se l'allenatore di per sé, il prototipo, lo stereotipo di allenatore non dice ho sbagliato, allora come facciamo ad avere un'analisi onesta, precisa, dettagliata, perché comunque Allegri dice scrivilo te, dillo te, oggi la leggo anche in un altro modo, nel senso dato che ieri o l'altro ieri hai detto e scritto cose che, allora oggi scrivilo te, dillo te, quindi ieri Allegri era molto su piedi di guerra per quanto mi riguarda con Gazzetta dello Sport o con Fabiana della Valle in prima persona, però ribadisco che secondo me quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Allegri dettato da nervosismo, rabbia collegato a qualcos'altro, è voluto andare lì per battere su quella roba lì quando non era il momento opportuno per quelle robe lì, perché la Juventus in questo momento tutto serve tranne che questa roba, questa roba da cabaret, da show televisivo, da content vero e proprio, mi viene in mente una puntata di OCV, loro partono dal parlare di calcio ma il loro obiettivo è fare content, però se la conferenza stampa è pre Bologna Juve parliamo di Bologna Juve, come oggi, è il giorno in cui parliamo di Bologna Juve, ma non parliamo di Bologna Juve, perché Bologna Juve cosa c'è da dire? Lato sportivo cosa c'è da analizzare? Volete che mi metta qui a elencarvi il Bologna in cosa è bravo, il Bologna in cosa non è bravo? Ragazzi, oggi io non me la sento di farvi questa disamina, perché secondo me oggi ci sono cose più importanti e più gravi. Ieri Allegri ha avuto appunto una reazione, secondo me, maleducata, incoerente, come vi dicevo ieri, però è stata anche sempre, come vi dicevo ieri, una reazione di un uomo nudo, messo a nudo, abbandonato a se stesso, ne parlavo anche all'interno di un reel che ho pubblicato su Instagram, su TikTok, così, se l'anno prossimo si cambierà allenatore, e per me è giusto farlo, e per me si cambierà allenatore, però serve anche una dirigenza forte che lo protegga, perché Allegri, e l'abbiamo già detto un miliardo di volte, da quando il CDA si dimette, viene messo lì, Allegri si dimette anche lui, Allegri dice, no ti prego rimani, viene messo a capo dell'area sport, cioè non lo sto dicendo io, non è la mia ricostruzione, non è la mia relazione, l'ha detto John Allegri, il giorno dopo le dimissioni del CDA, Max Allegri è oggi il nostro punto di riferimento per l'area sportiva, Allegri è stato messo lì, doveva semplicemente fare l'allenatore, ed era già in un momento di crisi la Juventus dal punto di vista sportivo, quindi di campo, quindi responsabilità riconducibile all'allenatore, non fa solo l'allenatore, fa anche il portavoce, e quante volte vi ho detto che post penalizzazione Allegri e i microfoni mi è sembrato giusto, anche abbastanza tosto, però da tosto a maleducato e incoerente secondo me c'è una differenza, e ieri Allegri è andato oltre proprio perché in questo momento secondo me si sente solo, si sente abbandonato dalla Juventus, e questo ritorna al discorso delle varie frecciatine alla dirigenza, del blocco granitico a 360 gradi, del momento più difficile che oggi, e non è quando ci hanno tolto i 15 punti, quello di Allegri è stato un grido, una richiesta d'aiuto palese, che secondo me giustamente ha fatto tanto rumore, giustamente ha portato anche tante interazioni a un video di un'ora, quindi oggi non me la sento di parlarvi di Bologna-Juve, perché di cosa possiamo parlare di Bologna-Juve, oggi ci sono dei problemi più grandi di Juventus, mi riconduco anche alla notizia di oggi, che era nata ieri, perché ieri Di Maria non viene convocato, e oggi Tutto Sport e Gazzetta dello Sport parlano di infortunio politico, cioè Di Maria ottiene la pettorina, che accompagna i giocatori che fanno panchina, e nel momento in cui ottiene la pettorina Di Maria fa notare che ha un problemino alla caviglia. questa è la ricostruzione di Tutto Sport e Gazzetta, come prima, io non so se è accaduto davvero, perché come non so se è accaduto davvero lo sfogo nello spogliatoio, non so se è avvenuto davvero l'anducci che parla con Spalletti, io non lo so, però ovviamente poi gli uffici stampa della Juventus servono a questo, a smentire queste notizie, e secondo me qua ci troviamo di fronte a due problemi. il problema dell'informazione sportiva in Italia, che poi è il problema dell'informazione in Italia, punto, e io che sto prendendo il patente di una giornalista, vi posso assicurare che mi sto interrogando spesso sull'importanza del lavoro che poi un giorno potrei andare a svolgere, perché credo che sia un lavoro molto importante, ma non voglio annoiarvi con questo discorso in questo momento, perché è molto lungo e complicato e sono i miei pensieri personali sparsi. Dall'altra parte, il problema della Juventus stessa, che si fa passare sopra tante volte, si fa andare bene tante volte, e tutti possono dire quello che vogliono all'interno dell'Italia nei confronti della Juve, mai che si intervenga, mai che ci sia una smentita, viene definito una sorta di superiorità sabauda, la modalità sabauda, il modo di fare sabaudo, però a una certa secondo me bisognerebbe anche iniziare a difendersi seriamente, quindi se pensi che quel giornale stia riportando un'informazione fasulla, ufficio stampa della Juventus che esce con un comunicato e dice in relazione a quanto scritto sui giornali, Juventus smentisce o direttamente ai giornalisti, e ovviamente se poi Juventus smentisce e il giornalista invece scrive comunque il falso, poi Juventus potrà intervenire per vie legali, per diffamazione, per creazione di discussioni che vanno a destabilizzare l'ambiente, e se Juventus non si muove da questo punto di vista, il giornalista fa una ricostruzione con le fonti, le fonti vanno in quella direzione e Juventus non dice niente, secondo me poi è anche stupido prendersela col giornalista che ha scritto un pezzo, poi questo è il mio modo di vedere le cose, perché stamattina leggevo, ma voi credete davvero che Di Maria abbia fatto questa roba? Io non lo posso sapere, io non sono qui a dirvi che è successo, ma nemmeno sono qui a dirvi che non è successo, al massimo posso darvi la mia opinione, io in questo momento pensare che uno come Di Maria possa aver tirato le mie in barca in campionato sinceramente fatico a dirvi no, non sarà mai accaduto al mondo, lo trovo abbastanza plausibile, lo trovo abbastanza plausibile, perché io ve l'ho detto anche nel momento migliore di Di Maria, io sono innamoratissimo di Maria, lo sapete, ma nel momento migliore di Di Maria, io vi dico bene, ora che vedo questo Di Maria, perché è il mondiale finito, perché ha vinto il mondiale, magari era quello, magari non era in condizione, io però ve lo dico, nella prima parte di stagione ho avuto l'impressione che la squadra giocasse contro e che Di Maria fosse uno di quelli che giocava contro, e mi ricordo che in questa cosa sono stato molto abbandonato a me stesso, tanti mi dicono no, è impossibile no, Di Maria professionista, eh sono d'accordo, Di Maria professionista certo, però a me Monza Juve sta ancora qua, io Bologna Juve di oggi la vedo come Monza Juve, identica, partita che arriva dopo dichiarazioni dell'allenatore rivedibili, evitabili e con Di Maria che si chiama fuori, poi magari Di Maria davvero un problema a caviglia, viene da dire speriamo che Di Maria sia effettivamente infortunato, però io sto leggendo tanti tifosi della Juve che continuano a dire ma figurati se succede perché l'ha scritta quella cosa lì, l'ha scritta quel giornalista lì, che tante volte è vero, che tante volte è vero, perché basti guardare come è stato gestito il discorso dei processi sportivi della Juventus in questa stagione e quante volte siano stati qui a fare nomi, cognomi dei giornalisti, prendergli articoli, andarli a fare una sorta di vivisezione e dirvi oh questa cosa non si doveva dire, lo stesso che firma oggi l'articolo su Gazzetta per Di Maria e Marco Guidi con cui l'altro giorno ho avuto una discussione su Twitter perché aveva scritto una roba del tipo se sarà patteggiamento la procura dovrà pensare al sentimento popolare di tanti tifosi che invece vorrebbero punizioni pesanti per la Juventus, che cosa mi significa, che cosa mi rappresenta, che cosa vuole dire, che cosa vuole dire, mi sembrava una roba assurda, ho voluto approfondire, lui ha difeso il suo articolo, per me quello è un articolo che non ha ragione di esistere, quindi anche qui l'ha scritto lui, l'ha firmato lui, però poi viene riportato a tutto sport e allora perché Juventus sta zitta? Cioè è un cane che si morde la coda, però un conto è parlare di patteggiamenti, tribunali e cose che in realtà il giornalista sportivo magari non è nemmeno così ferrato perché è abituato a parare il campo, un conto è Allegri ha fatto questo, ha detto questo, Di Maria ha fatto questo e ha detto questo, cioè qui si tratta di riportare semplicemente e il giornalista avrà delle fonti, che ne so, che possono essere interne alla società, un dirigente, un calciatore, quello che è, che riporta e dice quello che succede, quando ci sono dei veri e propri spifferi magari riescono a andare di spogliatoi queste cose, magari c'è qualche giocatore che spiffera e dopo è ovvio che diventa complicata, diventa difficile, quindi questa è la mia disamina oggi per me è difficile parlare di Bologna-Juventus, anche perché inizio il video dicendovi è domenica, riposatevi, rilassatevi e poi arriviamo a stasera e stasera ci guardiamo la partita certo, ce la guardiamo, ma qui rilassatevi, riposatevi, andava anche nella direzione in una direzione diversa perché secondo me stasera non ci divertiremo, stasera ho paura veramente che si scriverà una nuova pagina di drama a livello sportivo per la stagione in corso della Juventus, la centesima tra l'altro, quella di stasera è la centesima panchina di Massimiliano Allegra al suo ritorno alla Juventus e ho paura che possa toccare la dimensione del disastro, proprio perché in questo momento per quanto alcuni tifosi possono dire ma va là, ma figurati, ma secondo te, ma qui e là, dentro a Juventus sta succedendo qualcosa mi sembra palese, anzi mi sembra anche stupido volerlo negare, perché poi diciamo eh sì ma quel giornalista magari l'ha scritto quella roba per destabilizzare l'ambiente a volte secondo me passa dalla testa sia del giornalista che del tifoso che il giornalismo dovrebbe essere cronaca, raccontare quello che accade e non adattare la realtà a seconda di quello che si vuol pensare, ma questi, come al solito, sono i miei due centesimi a stasera guys!